Vedrete che avete due aperture, il 15 e il 19. Allora, cinema e spettacoli, il 15. Sagra e fiere, il 19, cioè venerdì prossimo. Le attività relative a sagra, fiere e altri eventi o manifestazioni assimilabili sono svolte in conformità dell'allegato. Avete l'allegato. Congressi e grandi eventi fieristici. Le attività relative a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, conventioni aziendali ed eventi ad essi assimilabili sono svolte in conformità all'allegato 1, sempre da venerdì, il 19. Sale e slot, sale e gioco, sale e bingo. Le attività delle sale e slot, sale e gioco, sale e bingo sono svolte in conformità all'allegato 1, quindi sempre le linee guida, venerdì il 19. Vabbè, una roba a volta. Se non l'ho citato, vuol dire che non dovevo citarlo. Discoteche e locali assimilabili. Le attività relative a discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'entrattenimento, in particolar modo serale e notturno e per eventuali servizi complementari, quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, eccetera, sono svolte in conformità all'allegato 1. Apertura venerdì prossimo. Il 19.